Io sono stata chiamata qui per parlare di co-living e strategie per la valorizzazione del territorio, ma in realtà la vera ragione per cui sono qui è dare un senso a questa frase, non è mia ma la porto dietro nel lavoro che faccio da quando ho iniziato. Giordano Bruno afferma non è la materia che crea il pensiero, ma è il pensiero che crea la materia. Solo filosofia? Oggi vedremo che forse non è così. Perché in realtà andiamo a capire attraverso degli esempi e attraverso un metodo per quale ragione dovremmo sempre e solo partire, quando creiamo modelli di business, dall'analisi delle risorse materiali e quindi la materia, per capire se possiamo avventurarci in un percorso, in un viaggio, tutto da fare, tutto da cominciare. Nel nostro caso invece partiamo al contrario, partiamo dal pensiero, quindi partiamo dall'uomo. E nel farlo la prima questione che voglio affrontare con voi è che cosa vuol dire problema. In realtà quello lì è un omino, virtuale ovviamente, potete identificarvi in quel soggetto senza volto, seduto su un punto interrogativo. Questo è l'atteggiamento che abbiamo spesso nei confronti dei problemi della nostra vita quotidiana. ci sediamo, ci concentriamo sul problema e lo viviamo così profondamente che non vediamo nient'altro che il problema. Quello è il momento in cui difficilmente riusciamo a trovare una soluzione. Poi c'è l'altro atteggiamento, ovvero questo, il cosiddetto punto di distanza. Quando affrontiamo una situazione creando un distacco da quella situazione, riusciamo a vedere non solo quel piccolo pallino che è il problema, ma riusciamo a inquadrarlo nel quadro generale, nel contesto in cui si colloca, che è un contesto fatto di cose problematiche, appunto, ma anche di aspetti positivi. Quello che vorrei affrontare oggi con voi è la possibilità di abolire il concetto di problema e aprire completamente ad un'altra dimensione, che è quella dell'opportunità. Noi siamo abituati a ragionare per problemi. Ragioniamo per problemi perché andiamo alla ricerca di soluzioni, quando a volte basta guardare quello stesso elemento che chiamiamo problema come opportunità. E per farvi capire che cosa vuol dire questo, quando ho deciso di avviare questa attività di co-living, in realtà io avevo un problema da affrontare e questo problema era dovuto e dettato da una casa, una casa vuota che aveva una cucina vuota, una dimensione di attesa e che io ho deciso di trasformare in una casa piena. Perché? Perché ho guardato quella casa come un'opportunità e non più come un limite. La mia famiglia e i miei genitori avevano costruito, investito tutto su un immobile che per me, figlia unica, laureata in filosofia, che per tanti miei colleghi era considerata qualche anno fa scienze della disoccupazione, si chiedevano che cosa ne avrei fatto di questo problema. In realtà tutto è cambiato quando, mentre ero in fuga, negli Stati Uniti, ho cominciato a osservare la casa come un qualcosa di diverso dal problema. L'ho vista come il contenitore di tutti i miei sogni. Quella era la prima risorsa da cui partire per coltivare condivisione di idee, filosofia appunto, pensiero generativo, capace di creare. Co-living non è altro che casa come occasione di vita condivisa. Nient'altro che questo. Persone che vengono da tutto il mondo, in questo contesto rurale, a Montalto Fugo, in Calabria, stiamo parlando della provincia di Cosenza, in un posto che non è mai stata una destinazione, eppure le persone vengono per fare cosa? Per confrontarsi e condividere progetti di vita e di lavoro. Quello che ho fatto attraverso gli studi filosofici è stato capire perché queste persone vengono da noi. Ho trovato quattro motivazioni fondamentali che equivalgono a ciò che cerchiamo oggi. Ispirazione, ovvero qualcuno o qualcosa che sia in grado di motivarci all'azione. Lentezza, ovvero qualcosa che ci porti fuori dal caos della quotidianità e che ci permetta di vivere il tempo e non di sopravvivere al tempo, cercano autenticità. Noi siamo fondamentalmente bipolari, lo sappiamo. Noi viviamo un io reale e poi viviamo un io virtuale, che è quello dei social. Solo che quello dei social è continuamente sottoposto al giudizio ed è giudicante. Quindi è in un circolo vizioso di apparenza. Quello reale trova spazio qui, in dei contesti asocial ma sociali, come quelli che si creano all'interno di questo spazio. Infine, l'ultimo motivo per cui le persone vengono da noi è la necessità di connessioni. Connessioni umane, connessioni professionali, connessioni che permettono di trovare un simile oppure ritrovare qualcuno che ne sa anche più di noi e può insegnarci qualcosa. Che cosa succede quando i nostri parametri cambiano? Succede che ci mettiamo in una dimensione, prima di tutto, di ascolto. Ma un ascolto che non è quello a cui siamo abituati, è un ascolto che si chiama generativo. E quando parliamo di ascolto ci rivolgiamo verso due dimensioni. Verso noi stessi, quindi un ascolto interiore, e ci chiediamo chi sono, che cosa so fare, che cosa voglio fare. Domanda difficilissima. Ma dopo aver fatto questo, per passare dall'ecosistema all'ecosistema, dobbiamo mettere a confronto le risposte che ci diamo su noi stessi con quelle. Com'è il contesto che mi circonda? Che tipo di risorse ha? Ma soprattutto io che ruolo assumo all'interno di quel contesto? Questa teoria dell'ascolto in realtà è la base fondamentale di un metodo, un metodo internazionale molto conosciuto, creato da Otto Scharmer, fondatore del Presencing Institute dell'MIT di Boston. La teoria U. Nel nostro modo di generare materia, noi affrontiamo una U. Passiamo dall'ascolto, che è quello che abbiamo visto adesso, all'osservazione, al sentire, ovvero devo capire come il contesto che mi circonda mi soffoca oppure mi stimola rispetto al chi sono io. Quando sono arrivato in fondo, ho messo da parte i pregiudizi, gli stereotipi, la storia che mi apparteneva fino a ieri, la storia dei miei luoghi e ho cominciato a risalire verso un futuro emergente. E questo futuro emergente noi lo abbiamo testato su un caso specifico. Stiamo parlando di Baccarizzo di Montaltufugo, cioè una frazione del mio comune, 500 abitanti, una sola attività produttiva, ovviamente in fase di spopolamento, e poi in Calabria, che vive un caso di non esistenza, come per il Molise, per cui sono dei casi in cui se ne sente parlare solo in termini negativi. In questo borgo abbiamo riunito la comunità per affrontare l'abbattimento di queste quattro parole chiave. Cinismo. Che cos'è il cinismo? Qualcuno di voi viene e vi dice, sai che si potrebbe costruire l'auditorium più grande d'Italia a Campobasso? E qualcun altro vi risponde, eh ma non siamo mica a Milano, siamo solo a Campobasso. Ecco, quello è il cinismo. Poi c'è la paura, molto più facile, l'ego, e quindi ciò che impedisce l'ecosistema, e poi la teoria. Otto Scharmer ci dice che la sua teoria U deve essere abbattuta, in virtù di cosa? Dell'avanzamento del prototipo, ovvero l'azione costante. La teoria da sola non riesce a generare cambiamento. Dopo aver fatto questo passaggio, abbiamo individuato e coinvolto gli stakeholder della comunità. Noi viviamo tutti in una comunità, cittadina, di quartiere, di borgo, di paese, rurale, ma viviamo in una comunità, e in ogni comunità ci sono gli stakeholder, ovvero persone che svolgono un ruolo sociale. Quelle persone hanno cominciato a capire, analizzando in che contesto vivevano, ma hanno cominciato a farlo autenticamente, individuando due cose, i pieni e i vuoti. Di solito noi, quando facciamo un modello di business, partiamo dai pieni, cioè tutto quello che rappresenta una risorsa immediatamente utilizzabile per produrre qualcosa. In questo caso invece ci si concentra sui vuoti, ovvero non ci sono trasporti, non ci sono servizi, non ci sono attività, beh, tutto quello che non c'è, la mancanza, genera un'opportunità da cogliere. Dopo aver fatto questo, ci siamo trasformati in un teatro. Il 4D mapping è la vera genialità di questa teoria. La comunità diventa parte di uno spettacolo teatrale, dove ognuno non in persona a se stesso, ma in persona il suo vicino di casa, la persona che fino a un momento prima aveva colpevolizzato per qualcosa e che adesso è costretto a capire, a comprendere, ad assorbire su di sé, come una persona che gli può essere di supporto. Alla fine di tutto questo abbiamo tirato fuori quattro modelli di questo borgo. Un borgo dove fino a un secondo prima la frase, il leitmotiv era qui non c'è niente. Ne sono venuti fuori quattro schemi di questa realtà e siamo passati all'azione, o meglio, alla co-creazione. Ad oggi, in meno di un anno, la comunità è diventata impresa, 55 soci, e ha scelto come costituirsi, ovvero cooperativa di comunità. Ha fatto un crowdfunding che in meno di 40 giorni ha raccolto 7.000 euro fuori dal borgo, quindi è uscita dai confini geografici ed è arrivata ben oltre. Ha deciso di riaprire una bottega all'interno del borgo. Ha deciso di formarsi per riuscire ad essere d'esempio per altri borghi d'Italia che hanno bisogno di capire come ripopolarsi. Allora, alla fine di tutto questo, il co-living è uno strumento. Da lì è partito tutto. È uno strumento ed è anche un'attività. La valorizzazione del territorio è una conseguenza, ma ciò su cui ci dobbiamo veramente focalizzare è la nostra filosofia, no? Quella che riusciamo a coltivare come pensiero autentico, come capacità di avere una visione che possibilmente sia coerente con quella che è la visione del nostro territorio. Allora, forse la divergenza, non è necessario avere un pensiero divergente. A volte basta semplicemente pensare veramente. Grazie. Applausi. Grazie.